Anno di grazia 2023, processo verbale per la nomina degli Abba, oggi 5 febbraio, terz'ultima domenica di carnevale. Noi, Erino Mignone, sostituto del Gran Cancelliere, decano dei notari porodiesi Pierluigi Cignetti, giunti in questa storica abitazione, siamo stati accolti da appassionati cultore della nostra manifestazione, che incarnano profondamente lo spirito della parrocchia di San Grato che qui viene glorificato. Ora, accompagnato dalle marce dei pifferi e tamburi, tra lo sventolio delle bandiere magistralmente inalzate dagli amati alfieri, il cittadino generale Marcello Feraudo, accompagnato dal brillante stato maggiore, proclama per l'anno 2023, Abba, per la parrocchia di San Grato, Scaturro Gaia! Grazie.